Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi porto un minigioco molto interessante che hanno messo su iPixel Grinch Simulator Ragazzi dovremo riuscire a prendere tutti i regali che troviamo in zona E fregarli agli altri ragazzi quindi sarà una sfida a chi prende più pacchi di Natale Ok? Va bene, immediatamente tanti pollicioni, condividete il video, iscrivetevi a canale se siete nuovi E vi lascio al minigioco E si parte ragazzi, vediamo un po' dove dà la freccettina mia e dove stanno andando tutti gli altri Così mi regolo, ok? Questa casetta non l'ha caccata nessuno Anche perché probabilmente è una di quelle un po' più buie No vabbè si può entrare da qui dietro dalle scalette Ok, allora vediamo un po' immediatamente Regalini, uno mio, uno è mio, dov'è? Vediamo se ce ne sono altri da questi pizzi Ecco uno nascosto lì sopra, vai 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 vai, un altro Mamma mia come stiamo andando di cattiveria Io direi di salire al piano di sopra Perché mi sembra che questa è una casa molto grande Siamo terzi ragazzi, dai, siamo terzi Non stiamo andando malissimo Per aver appena iniziato devo dire che non è male Vediamo se al piano superiore ci sono altri regali Uno, due, e lì sopra niente, ok Dentro l'armadio, ti pare che non c'erano nell'armadio Ok, proseguiamo in salita Vediamo un po', ce n'è un altro lì Perfetto Oh, bene, vediamo un po' se ce n'è qualcuno qui Bella, sopra la montagna Guardalo che non lo vi, ho preso Ah, no, no, sono sceso giù No, non è giusto E ora non posso risalire lì, vero? Ah, mi sono perso un regalo Bene, cominciamo male Allora, vediamo un po' loro dove sono Devo andare dalla casa dall'altra parte Anzi no, questa sembra abbastanza piena di roba Ok, bello Oh, quanti bei regali ci sono dentro questa casetta Riesco anche quasi a vederci, sinceramente Diamo un po' Eh no, in alto è troppo buio, ragazzi In alto è troppo buio Eh, ci vorrebbe una lucetta Si possono accendere le lucette? Ci sarà qualche regalino qua dentro? Preso Sì, c'era un regalo, c'era un regalino Vai via È una casa bella, ma è troppo buia Ci voleva una mod per le luci, sinceramente Vai via, vai via Vai via Non si vede niente qua sopra Come ce l'ho la luce? Scusate, eh Eh, no, ce l'ho bene Perché non si vede? È troppo buio, questa casa è buia Vediamo un po' dal piano ancora di sopra Magari c'è un po' di luce perché c'è la finestra Oh, regali è tutto spiano Regali è tutto spiano Ok, ok, ok Abbiamo fatto diversi regalini Siamo secondi Stiamo andando bene Stiamo andando bene di qua Questa finestra non porta da nessuna parte Vediamo da questa E magari Oh, pacchetto Eccolo, eccolo Che troviamo i pacchetti regali in giro per le montagne Ok, vediamo un po' se qui si può passare E sopra questo tetto c'è qualche altro regalo Sì che c'è qualche altro regalo Eccolo qui Ehi, dettico C'è un sacco di robina Eccolo, eccolo Preso Vediamo un po' se c'è qualcun altro Eh, non è mica facile trovare i regalini sopra i detti Ok, ne ho trovato un altro Oh, siamo ancora rimanendo secondi, ragazzi Devo ammettere che sta andando anche troppo bene Sinceramente Ok, vediamo un po' dove sono rimasti i regali Dentro a sto palazzo ce ne stanno una valanga E di là ce ne stanno altre tanti Quindi direi di andare a vedere qua sopra cosa c'è Questo non l'hanno visitato, sinceramente Ok Vediamo un po', sono un po' distratti i ragazzotti Mi dicono Vediamo un po' se riusciamo a salire in qualche maniera Mi sono un po' incastrato tra gli alberi Vecca miseria, non ha saltato Ah, ah, non recuperano tutti i punti Guardali, eh Guarda, io lo so Io li conosco, sti brutti Vai via È il primo classifico, è venuto a rompe i ball Eh, volevi? No, mi ha preso Mamma mia Mamma mia, settevi io Non l'ho preso Eh no, niente, è entrato lui È entrato lui Vediamo un po' se c'è qualche altra casa con altri regalini rimasti Eh, questo qua per forza Devo assolutamente sbrigarmi Oh no, un'altra casa buia No, è illuminata Ci sono tanti regali qua Perché non l'hanno preso nessuno Mamma mia Eh, questo è È proprio un regalo che mi avete fatto Gentilissimi Ok, qui c'è uno qua sopra Mi sta piacendo tanto questa cosa La casa più bella l'ho trovata io con tanti regalini Allora, sicuramente c'è uno lì Eccolo Vai, eh no Mi sa che rimango secondo, ragazzi Ci abbiamo provato Oh, oh Aiuto Aiuto Ok, dai È andata bene Sono arrivato secondo E ci si riprova, ragazzi Vediamo che riusciamo a combinare Se stavolta ce la facciamo Dammi la freccetta Non mi ha dato ancora la freccetta Ivo di gioco Vieni qui Eh, vado a quella là sotto Perché nessuno c'è andato Ed è giusto così, ragazzi Bisogna entrare di cattiveria nelle case giuste Per forza Ok C'era anche una dalla parte dove era chiusa la casa E fortuna che ci sono passato per sbaglio per vedere se la porta era aperta Non mi perde un regalino E per salire là è un problema Logistico molto grosso Come si entra dentro questa casa Porca miseria Dagli alberi Eh, me sa È l'unica Vediamo un po' Cioè, come penso Sì No, mi stanno menando Ok Oh mio 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 Volevi Le piaceva Eh, però io da qua devo continuare per forza a salire Quindi ha vinto lui in quel caso Ok Saliamo Vediamo un po' che riusciamo a combinare io con i parkour Poi sono abbastanza leso Oh regalino qui Non è salito Non è salito sull'albero il matto Ma what? Hai fatto un errore grosso Eh, eh Ho capito però Quanto sono scopo di questi alberi a salire Ok Salta lì Mamma mia sul tetto Salto epico Volevi Ok Vai Vai giù Olè E questo l'abbiamo preso Eh, no Mi sa che questa non arriva neanche in classifica Sono partito troppo tardi a prendere i regali E sto prendendo solo questi qua sui tetti Che non sono proprio il top sinceramente Vorrei entrare nella casa io però Dal tetto come si fa ad entrare in questa casa? Mi scusi? Vorrei entrare in casa Come faccio? E mi sa che ho fatto una cavolata Sono sceso dal lato sbagliato Bene Bravo Mordug Mordug E allora cambiamo casa Mi sa che stavolta proprio ho fatto schifo Ho scelto la casa sbagliata Ok Lì c'è gente Vediamo un po' dalla mappina cosa dice Allora Qui c'è una persona Lì ci sono tanti regali Ma c'è un'altra persona Che penso stia provando ad entrare Eh L'unico modo per entrare da qua È questo albero qui Giusto? Eh Mi sa proprio di sì Allora Vediamo un po' se riusciamo a fregare qualche regalo alla gente Tipo quelli nascosti che si dimenticano dentro ai ripostigli Perché la gente non è sveglia Non è che vede tutti gli anfratti E si accorge che mancano regali No no Eh lo so E lo so Il problema è che Non Eccolo Tipo questo Però Già l'ha svuotata alla grande Anche questa di casa Porca miseria Sono rank 6 Che schifo Sono sesto ragazzi Sto facendo schifo Era meglio la prima partita Me l'abbonate questa vero? Ditemelo nei commenti Ok Eh Una casa aperta Eh le case aperte sono belle ma sono buie Le case aperte sono belle ma sono buie C'era qualcun altro già dentro Quindi no Porca miseria Dove sono io? Ma i regalini non c'è più niente in giro Ah stanno tutti lì Stanno tutti a quell'altra Quella addossavo prima Ne sono rimasti Aiuto Quindi qui ci sono regali nascosti per bene Ma dove? Al buio Cioè con questo buio non si vede una mazza Io come faccio a vedere dove sono i regalini? Eh 30 secondi già? Eh no Eh no Stavolta ho giocato veramente brutto Vi ricordo nei commenti di scrivermi se volete che gioco in questo bellissimo mini gioco di Natale anche con gli altri febbag appena ne abbiamo la possibilità di giocare insieme E se vi è piaciuto il video cominciate a mettere un bel pollicione immediatamente ricordatevi di scrivervi se non vi siete iscritti E io tanto perdo male perché non ho trovato più niente perché sono partito troppo in ritardo nelle casette Nooo lì c'era un regalo Nooo no questa è una brutta sfiga mi sono lanciato male sono arrivato sesto vabbè dai la prima secondo e la seconda sesto ci può andare Va bene ragazzi avete visto questo mini gioco di Natale se volete che lo portiamo magari in questi giorni che ci sarà un po' di pausa anche con la pixemon ragazzi Con gli altri febbag ditemelo qua sotto nei commenti e mi raccomando tanti pollicioni voglio vedere tantissimi pollicioni per questo mini gioco ragazzi così ve lo portiamo sul canale Ok lasciate i pollicioni condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi ci vediamo alla prossima puntata ciao